Questo è l'Italian Corsegarde, non muovere, resta in scegliere, siamo tutti in porto, resta in scegliere, non muovere. Non muovere, aspettate, ok? Non muovere. Vabbè quello di si lanciano, vabbè pronti? Vabbè. No, nessuno, rispettano di un gruppo disattore. O, si sono 주ja! Oh, si sono! E vabbè, vabbè vabbè... ipi! Allora, papi! Ok, bravissimi ragazzi, tutti salvi Ok, bravissimi ragazzi, tutti salvi All the line, ok, two people Sit down, sit down Stecca, deve andare ancora un po' dietro ragazzi Ok, bravissimi ragazzi Ok, bravissimi